Buon pomeriggio e buona domenica a voi. Allora faccio subito una premessa a questo video, io non voglio assolutamente apparire presuntuoso, non mi piacciono i presuntuosi, non sono assolutamente chiaroveggente, ma semplicemente leggendo molto e ascoltando molto quello che sono i commenti della politica italiana, quelli che sono i punti di vista dei vari leader, dei vari partiti, poi uno magari riesce così a interpretare determinate dichiarazioni e a farsi un'idea anche per quello che riguarda un po' il futuro del nostro paese. Chi mi conosce da tempo sa che ad esempio quando fu eletto nel febbraio del 2021, Draghi io ve ne parlavo già 6-7 mesi prima nei miei video, che Draghi sarebbe diventato il presidente, il capo del governo italiano. E così adesso ho un po' questa sensazione che Urbano Cairo, che conosciamo, patron di La Sette, tra l'altro anche una squadra di calcio di Serie A il Torino, editore, insomma un personaggio che ormai conosciamo in molti. Urbano Cairo secondo me potrebbe essere prossimo a scendere in politica. Da quale schieramento? Perché molto spesso quando io ho anche commentato e quando ho parlato anche molto recentemente di La Sette, qualcuno mi ha scritto, se sono sicuro, che Urbano Cairo è di sinistra e non di destra, anche perché qualcuno mi ha detto ti devi ricordare come lui ha iniziato con Berlusconi. Ma vedete, io credo che ormai questo non abbia più alcun significato. Ce l'aveva ai miei tempi, quando ero giovane, quando ero ragazzo, che mai e poi mai un uomo di destra avrebbe potuto nella legislazione futura entrare a far parte dell'altro schieramento. Insomma, difficile prevedere o pensare che mai un Berlinguer avrebbe potuto passare dall'altra parte neppure un almirante. Ora avviene con una nonchalance incredibile. Potrei citare solo la figura di Di Maio, no? Quanti rovesciamenti ha fatto. È andato ad esempio vicino ai gilets jaunes a Parigi per poi disconoscerli e passare esattamente dalla parte opposta di chi invece li combatteva e così via. È stato in un governo con la Lega, poi è stato in un governo col Partito Democratico. Per una semplice ragione che poi è venuta fuori in maniera chiara, incontrovertibile. A lui interessava unicamente la sua carriera politica. Degli italiani proprio non gliele importava assolutamente nulla. E per quanto riguarda adesso invece i grandi leader, no? Tra i quali sicuramente c'è stato e continua a esserci Mario Draghi. Mario Draghi sicuramente ideologicamente non è uno di sinistra, però avete visto che senza alcun problema nel suo schieramento aveva il Partito Democratico. Sicuramente non c'è il problema per questi leader di essere capo del governo, di un governo di centrodestra piuttosto che di centrosinistra. Queste cose ormai non contano più nulla. La cosa importante è ovviamente fare carriera politica, ricoprire posizioni di prestigio e fare parte del grande sistema che sta avanzato. Quindi, vedete, non è molto importante ideologicamente come la pensa Urbano Cairo. È però altrettanto evidente che se Urbano Cairo dovesse scendere in politica, intanto non è semplicemente per essere eletto nel Parlamento italiano, ma ovviamente per essere leader di uno schieramento o, ancora meglio, per essere il capo di una nuova coalizione che si candida come premier. Ed è di tutta evidenza che è molto più probabile che questo avvenga nello schieramento di sinistra, che non ha attualmente una figura del genere, mentre obiettivamente questa figura la troviamo nel centrodestra con Giorgia Meloni, che sicuramente è un leader, che sicuramente è un leader di coalizione e che tutte le previsioni danno con grandi possibilità di governare per molti anni. Allora è chiaro che la sinistra sta cercando di avere un antagonista da contrapporre fra poco più di due anni a Giorgia Meloni. Ed ecco che io penso che sicuramente la figura che oggi maggiormente ricopre quella possibilità, ha quella possibilità di essere leader di quello schieramento, è proprio Urbano Cairo. Poi, ripeto in conclusione, non c'entra nulla come lui in passato o anche adesso la pensa da un punto di vista ideologico, se lui è per la famiglia e non per la famiglia, cioè non è importante. Resta un fatto assolutamente incontrovertibile che la sua emittente, la 7, se andiamo a vedere l'informazione, perché poi è quella che contano, è quella che va a influenzare le persone, è fatta da tutti uomini e donne che sono di sinistra e questo è incontestabile, perché se andiamo a vedere per quanto riguarda i giornalisti, vediamo Mentana, vediamo Lily Gruber, ma vediamo anche Parenzo, vediamo Formigli, vediamo Floris e tanti tanti altri, in passato è stata la Merlino che poi è andata a Mediaset, lo è ancora la pannella, sono tutti uomini e donne di sinistra. Quindi, voglio dire, non è di sinistro Urbano Cairo, chi se ne frega, ma la sua emittente è un emittente che ha un indirizzo prettamente vicino alla coalizione della sinistra e vicino al Partito Democratico? Assolutamente sì. Comunque, ripeto, io sono abbastanza convinto che a breve e soprattutto in chiave nuove elezioni politiche del futuro, Urbano Cairo potrà e scenderà in politica. Con questo vi lascio, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.